Buongiorno e benvenuti a Earth from Space, ovvero la Terra vista dello spazio. Lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di intervistare l'astronauta Paolo Nespoli, con cui abbiamo parlato di come la Terra è vista dalla Stazione Spaziale Internazionale. Abbiamo parlato delle differenze tra osservare la Terra dalla stazione, che vola ad un'altezza di circa 400 km, o con i satelliti che volano a doppio di quella altezza, intorno agli 800 km. Per continuare questo discorso, e oggi anche in lingua italiana, abbiamo con noi nello studio l'astronauta Luca Parmitano, che ha trascorso più di 160 giorni nello spazio. Grazie Luca per essere con noi. Grazie di avermi invitato, grazie di aver pensato a me. Luca, tu hai vissuto 160 giorni nello spazio, alla Stazione Spaziale Internazionale, da maggio a novembre, con la missione Volare. Mi potresti spiegare che cos'è, lo scopo di questa missione? Sì, 166 giorni in orbita, per essere esatti. È una missione che, come piace dire a noi che siamo in questo ambiente, racconta, lavora sulla scienza, sulla tecnologia, se queste due cose non fossero abbastanza, sull'esplorazione, che è la parte che a me piace di più. Per quanto riguarda tecnologia, abbiamo fatto dei test su sistemi nuovi, su nuovi macchinari, su nuovi materiali. Per la scienza, oltre 200 esperimenti, per più di 40 ore settimanali di scienza. E per l'esplorazione, tutto quello che si fa in orbita, di fatto, è una preparazione all'esplorazione futura, di quella che sarà un giorno l'esplorazione interplanetaria, su sistemi diversi da quello terrestre. Mentre eri nello spazio, ci hai tenuto aggiornati tramite Twitter e blog, ma anche con certi bellissimi foto. E c'è uno adesso sullo schermo che è scattato nelle prime settimane della missione della Sicilia. Com'era di avere questa nuova prospettiva della nostra Terra? Ma io sono abituato a vedere la Terra ad alta quota, perché prima di diventare un astronauta, sono ancora un pilota militare, quindi ho spesso sorvolato le regioni del Sud Italia e ho visto la Sicilia dall'alto, ad un'altezza anche di 40.000 piedi. Ma in realtà nulla mi poteva preparare alla bellezza delle immagini viste dallo spazio. Di fatto questa immagine che vediamo sullo schermo oggi ha una storia un po' particolare. Venivamo da una condizione di illuminazione solare che non ci permetteva di guardare per Terra, perché tutto era buio, noi eravamo illuminati e la Terra era buia. Per cui dopo una decina di giorni in orbita, proprio all'inizio, finalmente uscendo da questa condizione abbiamo iniziato a fare foto nella superficie terrestre. In quel giorno lì stavo facendo le foto dell'Africa e poi alzando lo sguardo ho visto che stavamo volando vicino all'Egitto, ho visto la Grecia e girandomi verso ovest ho notato la Sicilia illuminata dalla luce al tramonto ed è stata una sensazione bellissima, emozionante, di vedere di fronte ai propri occhi in una delle finestre della cupola la Terra in cui si è nati e si è cresciuti. È necessario essere un fotografo per diventare un astronauta? No, non è necessario perché in realtà tutti noi veniamo da background, abbiamo una provenienza professionale diversa, però la cosa bella di diventare un astronauta è che si imparano tante cose e si fa un corso che permette a persone completamente diverse, quindi ingegneri, scienziati, dottori, piloti, permette di avere una base comune e tra queste cose c'è anche la fotografia, quindi mi è stato insegnato come utilizzare macchine fotografiche professionali, come sistemare l'inquadratura, ma soprattutto c'è il vantaggio che la Terra presenta uno spettacolo talmente bello che le nostre immagini non hanno bisogno di grande professionalità ma semplicemente la volontà di prendere le foto. Guardiamo un'altra foto adesso, questo è scattato sopra Australia, che cosa mi puoi raccontare di questa foto? In questa foto quello che vediamo al centro è uno dei monoliti più famosi al mondo, si chiama Uluru, conosciuto anche come Airst Rock nel deserto australiano ed è una foto che mi piace particolarmente perché l'ho fortemente voluta. sulla stazione noi utilizziamo il tempo di Greenwich, quindi quando è giorno sulla stazione è notte in Australia, per cui per prendere una foto diurna in Australia bisogna cercare di alzarsi verso la mattina o restar tardi la sera. Bene, in questa foto io ero lì appostato perché sapevo che saremmo passati vicino alla zona e poi con una lente credo da 400 mm ho cercato Uluru, ho cercato il monolito e riconoscendolo tra le altre formazioni rocciose sono riuscito a scattare questa foto. Come fai ad orientarti geograficamente mentre che stavi nello spazio? Fortunatamente abbiamo una tecnologia che ci viene in aiuto. La stazione è dotata di un GPS, quindi di un sistema di posizionamento satellitare globale che è collegato ai computer di bordo sulle quali noi possiamo mettere una mappa che ci mostra la posizione dell'ISS con una buona precisione e poi facendo uno zoom dell'immagine siamo in grado di capire con una precisione dove si trova la stazione. Poi chiaramente nei sei mesi ci si abitua anche a vedere un po' le immagini e a comprendere dove ci si trova nel mondo. L'unica differenza è che siccome la stazione ha la finestra posizionata verso la terra per entrare nella cupola siamo a testa in giù per cui le immagini sono al contrario. Ma ci si abitua molto facilmente. Ok, adesso guardiamo un'altra foto. Che cosa vediamo qua? Qui siamo nelle praterie del Kansas, nel centro degli Stati Uniti. La storia legata a questa immagine è che mi era stato chiesto da molte persone di pubblicare foto non solo dell'Europa, del Mediterraneo ma anche di altri posti. Quindi quasi come una sfida ho voluto pubblicare questa foto che potrebbe non dare molta emozione se non fosse che a me ricorda un quadro di Mondrian con queste linee geometriche straordinarie, molto belle e molto ordinate. E questa idea è piaciuta molto da un colore particolare a una foto che potrebbe essere in apparenza un po' piatta. Ma in realtà secondo me è molto bella. Parlando di colore, questa infatti è una zona che a me piace personalmente di osservare con le immagini satellite. Cioè abbiamo adesso un'immagine dell'ANSAT che sta in falso colore, certamente certi campi risultano rosso. Questo per vedere vari tipi di vegetazione. Adesso guardiamo un'altra foto, sempre dall'agricoltura che è scattato, però una zona un po' diversa. Che vediamo qui? Sì, qui siamo in Africa, siamo in Egitto e questa è un'immagine molto particolare di campi irrigati con un sistema di irrigazione che crea questi cerchi in mezzo alla sabbia. Un'immagine straordinaria perché è una macchia di colore che rompe la monotonia, che non è mai monotona, del deserto. Quest'immagine, quando la pubblicai, la chiamai Space Invaders. Non perché ci fossero degli alieni che hanno invaso la Terra, ma perché queste forme geometriche dell'immagine mi ricordano il videogioco degli anni Ottanta, di quando io sono cresciuto, e mi piaceva un po' ricordarlo con questo nome. Ok, qualche giorno prima di tornare alla Terra è scattato un'altra foto, uno di tante foto di Sicilia. Eccolo qua, che cosa ci puoi raccontare di questo? Sì, ho scattato veramente tante foto della Sicilia, ma si può immaginare anche perché, la mia terra. Questa foto è stata fatta perché era uno degli ultimi passaggi, sapevo che era uno degli ultimi passaggi prima di rientrare. Siamo in tardo ottobre e qualche giorno prima era stata un'eruzione dell'Etna. Si può ancora vedere qualcosa nell'immagine. Quando l'ho scattata, l'ho pubblicata come un saluto, un saluto alla mia terra, un arrivederci alla stazione e una preparazione al mio rientro sul nostro bellissimo pianeta. Adesso guardiamo sempre dei dettagli di Sicilia. Abbiamo qua una foto di un satellite, un'immagine di un satellite, insieme con un altro che si fa vedere il sulfur dioxide. Magari mi potreste aiutare con, come si dice in italiano? Il dinossido di zolfo. Grazie. Questo viene certamente dai vulcani e questo ci aiuta a definire dove si trovano le cenere, le cascate dei cenere dei vulcani. Sì. Questa è una foto importantissima, di altissimo valore per chi come me è un pilota, perché la sabbia dei vulcani, la cenere vulcanica, è estremamente pericolosa per i motori dei velivoli. Tutte le volte che un vulcano fa un'eruzione, lo sappiamo benissimo, la circolazione aerea viene limitata. Queste foto permettono a noi piloti di evitare zone molto pericolose e di poter fare una navigazione aerea sicura. Di solito sul nostro programma facciamo vedere un'immagine di un satellite e io spiego che cosa si vede, ma oggi tocca a te. Io adesso metto un'immagine del satellite giapponese ALOS. Che cosa vediamo qua? Questa è un'immagine ad altissima definizione della Sicilia di nuovo, della zona intorno a Catania che vediamo nella parte in basso a destra e dell'Etna, il vulcano, il gigante della Sicilia nella zona in alto a destra. E tutta la zona al centro è quella che si chiama la Piana di Catania con la vegetazione che alla fine si tratta di bellissimi alberi di arancio che sono quelli tradizionali della Sicilia. Una bellissima immagine ad alta definizione. Adesso vediamo un po' più vicino. Si può vedere come la risoluzione sia straordinaria perché si riescono a distinguere quasi le case di Catania. qui siamo nella zona centrale del porto, si vede anche una delle strade principali, si vede lo stadio. La risoluzione è veramente straordinaria. E adesso un piccolo test, non voglio essere cattivo, ma che vediamo qua? E qui siamo sempre in Sicilia, sempre a Catania, ma qui siamo nella provincia e quello nell'immagine è il mio paese in cui sono nato. Si tratta di Paternò, una cittadina nella provincia di Catania nel quale sono nato, anche se non ci ho mai vissuto comunque il mio paese natale, per cui un piccolo pensiero di affetto comunque va sempre. Certo. Luca, recentemente sei stato al Festival di Sanremo, mi potresti raccontare quello che hai fatto, il tuo intervento lì? Certamente. L'idea dell'invito nasce dal fatto che il tema del Festival di Sanremo quest'anno era dedicato alla bellezza. E io spesso, mentre ero in orbita, scrivendo i miei blog o parlando delle immagini della terra, parlavo di questa bellezza quasi indescrivibile, non perché io non sappia come esprimerla, ma perché secondo me ci vorrebbe un poeta che inventasse nuove parole per poterne parlare. Bene, il Festival di Sanremo è sicuramente un palco straordinario per passare questo messaggio di bellezza e così sono stato onorato di accettare e di cercare di passare il messaggio della bellezza straordinaria del nostro pianeta, della nostra terra, della nostra casa. Tra l'altro, proprio in quell'occasione mi è venuto in mente di pensare che una cosa straordinaria è che la terra è la nostra casa, ma l'esplorazione è fatta per cercare di superare gli orizzonti. Quindi dobbiamo amare la nostra terra, dobbiamo amare il nostro pianeta, ma non possiamo non pensare agli orizzonti da superare. A tal proposito, mi viene in mente la frase di Amelia Earhart che disse che è volare, nessun confine ma solo orizzonti. E poiché volare era il titolo e il nome della mia missione, mi sembra molto appropriato. Luca, grazie tanto per essere stato con noi e grazie anche per la tua pazienza come italiano. Grazie a te, il tuo italiano va benissimo e grazie agli ascoltatori. Ok. E per il nostro pubblico, se volete saperne di più sull'Agenzia Spaziale Europea, anche in lingua italiana, andate sul nostro sito web www.esa.it. Per oggi è tutto, grazie e arrivederci. Grazie a te, il nostro pubblico, grazie a te.